Leggera supremazia territoriale del Treviso, Bari che aspetta e tenta di ripartire in contropiede, poche però le emozioni in uno stadio quasi deserto. Music si dà un gran da fare sulla faccia sinistra, ma Acquafresca in mezzo non riesce quasi mai ad essere pericoloso. L'occasione è buona alla mezz'ora, però ce l'ha il Bari, contropiede diagonale di scaglia fuori di poco. Nei minuti finali si fa vedere il Treviso, Music mette in mezzo la palla e esce per Acquafresca che non trova il varco giusto. Subito dopo ancora Music, dribbling stretto, il tiro esce. Secondo tempo sulla stessa falsariga, Treviso che attacca, Bari in contropiede, davvero bravo Avramov su sgrigna. Il Treviso fatica, su calcio d'angolo fietta di testa, la palla sfiora l'incrocio dei pali. Alla quarto d'ora buona occasione per i biancocelesti, Dai e vai Acquafresca, Quadrini ancora per il centravanti, Gillette blocca. Poco dopo ancora scaglia, solo davanti ad Avramov, ancora decisivo il portiere serbo. Alla primo minuto di recupero un'altra grande occasione per il Bari, il diagonale di sgrigna esce di pochi centimetri.